Il nostro regista Marco Spolettini è andato a focalizzarsi su uno dei migliori arbitri d'Europa, Luigi Lamonica, sarà lui il primo arbitro della partita. Parlavamo di una partita sensazionale per le premesse, prima contro seconda, partita dal sapore speciale soprattutto per coach Meo Sacchetti per il suo passato a Varese. Andiamo a rivedere in questo RQM il passato di Meo Sacchetti con la maglia di Varese. Nella Hall of Fame di Varese. Noi ringraziamo la disponibilità e l'ottimo lavoro che è stato fatto da Edi Dembischi e da Ido Dembischi per le immagini che ci sono state fornite a proposito di questo allenatore, l'allenatore dell'anno con la maglia di Varese.